Dunque Giovanna Brandelli continuerà a guidare l'ACA per altri tre anni. Lo ha deciso ieri l'assemblea composta dai sindaci dei 64 comuni soci dell'azienda acquedottistica. Confermati anche i consiglieri di amministrazione uscenti Donato Di Matteo e Pierpaolo Canzano. Durante la riunione è stato approvato anche il bilancio di previsione che conferma il risanamento dell'azienda finita tempo fa in concordato. Dottoressa Brandelli, intanto complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri per questa rielezione. Segno inequivocabile che il suo lavoro è stato apprezzato nel tempo. Sono molto contenta e sono molto motivata dalla rinnovata fiducia dei sindaci. Sento che il servizio idrico cambia effettivamente la qualità della vita delle persone, quindi comprendo l'impatto sociale di questo lavoro e mi impegno di conseguenza. Questo ulteriore mandato apre una nuova fase, quale? La chiusura del concordato e quindi il ritorno in bonus dell'azienda e anche la capacità di contrarre mutui e di destinare una quantità maggiore di risorse alla realizzazione degli investimenti. L'azienda negli anni si era molto concentrata sulla parte fognaria, adesso si deve concentrare di più sulla gestione delle reti, sulla limitazione delle perdite. Sono stati presentati chiaramente dei progetti candidati ai finanziamenti del PNRR ma crediamo che sicuramente non saranno sufficienti perché c'è una richiesta di finanziamento di 50 milioni per tutto l'Abruzzo, quindi per tutti i gestori regionali. ACA ne ha bisogno molto di più per la riabilitazione, per la riqualificazione delle reti e il completamento degli interventi. Cosa possiamo prevedere? Questa domanda da un milione di dollari per questa estate. C'è una capacità leggermente superiore di riserve idriche rispetto allo scorso anno? I dati di quest'anno sono migliori dei dati dell'anno precedente, quindi diciamo che le premesse sono meno complesse e meno critiche di quelle dell'anno scorso. Però rimane sempre la necessità di prevedere una grande variabilità della domanda di consumo. Io faccio sempre l'esempio che il comune di Silvi è fatto da 16 mila abitanti, normalmente ad agosto diventano 100 mila. Quindi in conseguenza della vocazione turistica dei comuni costieri che noi dobbiamo assolutamente tutelare e assecondare, chiaramente dobbiamo regolare la rete in funzione appunto di questa grossa variabilità della domanda.